Sono pochi oggi nella sede di Pescara Porta Nuova i rifugiati ucraini, in particolare donne e bambini, che qui si recano per il riconoscimento, le pratiche e il tampone. In questa struttura, sotto il coordinamento del Comune di Pescara, operano tutti assieme ASL, Protezione Civile, Polizia Municipale, Caritas, Croce Rossa, Polizie, numerosi volontari, anche ucraini che, vivendo già in Abruzzo, possono dare una mano ai propri connazionali. La provincia di Pescara è quella che ha accolto la maggior parte dei profughi, per cui ora vengono scelte altre collocazioni, ci spiega Antonio De Simone, volontari senza frontiere. Certamente sì, ormai su Pescara abbiamo preso circa 1150 profughi e di conseguenza siamo arrivati alla saturazione e poi adesso li stiamo dislocando anche su Teramo, Giulianova, anche lì sono stati aperti dei COC e di conseguenza si fermeranno lì. Ecco, vorrei sottolineare una cosa, qui si fanno i tamponi e si registrano i rifugiati ucraini, invece per quanto riguarda i vaccini bisogna andare a Palazzo Fuxas, questa è un'informazione importante a tutta la popolazione. Assolutamente sì, il protocollo quando arrivano li registriamo per la polizia locale e poi passano a fare i tamponi alla ASL, una volta fatto i tamponi dopo l'esito devono fare il protocollo per andare alla questura per il permesso di soggiorno e subito dopo andranno a fare i vaccini. Il dottor Mauro della Guardia Noi provvediamo qui in questa postazione ad effettuare l'estp, un codice sanitario provvisorio regionale con cui loro possono avere l'assistenza sul territorio nazionale e non solo regionale che vale, noi facciamo per tre mesi, diamo questa assistenza, questa STP rilasciamo, per cui con questa STP abbiamo dei cartelli sulla nostra vetrata che loro possono fotografare, spieghiamo che possono avere l'assistenza di un medico nostro per eventuali prestazioni sanitarie, ricette o prescrizioni di analisi, raggi e quant'altro, oppure possono rivolgersi e pronto soccorso in caso di radio. Olena, ucraina, ormai è di casa, vive da tanti anni a Pescara e ci racconta storie di chi arriva qui per suggire alla guerra, come Margherita, sua connazionale che ha lasciato i genitori nel suo paese. Adesso Kiev stanno bombardando per il momento, solo l'unica cosa positiva è che ancora non c'è né carri armati dentro né altre soldate russi né altre armi pesante che potevano entrare, hanno, tengono ancora Kiev, Ucraina. Margherita è arrivata qui con chi? Con quali parenti? Comunque c'è la nonna e c'è la zia che è ospitato in casa sua. Tu sei reperibile H24? Sì, comunque così perché fino a sera, fino a tarde chiamano perché da solito preoccupate quelle persone che portate i bambini per sistemare l'asilo, per sistemare la scuola, per vedere cosa c'è. Invece convolte tutte le associazioni che stanno aiutando.